Se firmi questo documento, il tuo venire è finito, perché qui rinunci ai rimborsi elettorali. Io ho fatto tutto questo per i rimborsi elettorali. Adesso tu firmi qua e rinunciate a qualsiasi cifra, perché potrebbe essere qualsiasi cifra, bellissima questa. Ed è la cosa che ci caratterizza un po' a non prendere i soldi. Non venirmi a chiedere a me perché non ti do una lira, ognuno si arrangia. Quindi tu adesso firma e firmate tutti, firmi tu per tutti. Io ho sottoscritto Antonio Federico, andiamo ad iscriverlo. Non hai neanche il cognome, vorresti anche i soldi. Antonio Federico. In qualità di candidato presidente della regione molise per il Movimento 5 Stelle, mi impegno perché i contributi pubblici, i cosiddetti rimborsi elettorali, rimangano allo Stato e non saranno ricevuti o gestiti da parte della lista a cui appartengono. Fantastico, più chiaro di cosiddetti. Se vuoi metterci qualcosa di tuo. Ma ci vediamo una data che è importante. Che sarebbe 12. 12. 10. Ah, ok. Ah, campo basso. Va bene. Vabbè, dai. Campo basso. Perché qua stiamo a campo basso. Infelizia. È un po' 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 è